bene ragazzi buongiorno siamo qui oggi con un nuovo video in questo filmato vi mostrerò la configurazione di base o meglio quella di partenza quando installate un carburatore phbh 28b di derivazione rs 125 o kajivamito 125 sul nostro caro amico bloccone con maxi team vl16 quindi pacco lamellare non che monta sulla sede originale ma sede allargata a differenza del vl13 che monta senza modifiche il vl16 necessita di un allargamento della sede del carter quindi maxi team vl16 172 malossi chiaramente e filtro aperto tipo malossi e 13 allora innanzitutto a differenza degli altri 28 che si trovano in circolazione questo possiede il venturi aggiuntivo che porta il diametro del manicotto del filtro a 59 barra 60 mm questo è ottimo perché ho fatto i test negli anni togliendolo quindi lasciando soltanto la parte interna perché qua sotto c'è chiaramente il filetto e si possono innestare anche i manicotti dei filtri originali del 50 ma il problema è che un po' per l'effetto il mancato effetto venturi un po' perché comunque si usa un manicotto più piccolo la porta d'aria è estremamente inferiore quindi anche le prestazioni sono decisamente inferiori quindi detto questo mi raccomando trovate la versione con il venturi di plastica filettato detto questo bd come ho già detto in altri video vuol dire che ha le regolazioni a destra ovvero farò mi ha rubato la vite del minimo me l'ha rubata me ne sono accorto adesso gliel'ho prestata me l'ha rubata un dislike per faro tu perché mi ha rubato la vite del minimo allora qui ci va la vite del minimo questa è quella della miscela che come già detto in altri filmati essendo vicina al collettore di aspirazione se viene avvitata smagrisce se viene svitata ingrassa la carburazione detto questo detto questo andiamo a smontare vi faccio vedere come è configurato con l'elaborazione che vi ho appena indicato allora il getto del massimo è un 142 allora considerate che adesso io ho il cilindro vediamo se mi avvicino un po di più ok io ho il cilindro con le fasature molto alte ed è molto molto spinto quando avevo il cilindro di scatola ok era il massimo era sul 136 138 ok quindi diciamo che c'erano 6 4 punti differenza rispetto ad adesso bene detto questo andiamo a vedere sotto la vaschetta cosa si nasconde ok perfetto allora mi raccomando i getti del minimo devono essere sempre a testa alta sono 5 millimetri quindi quelli che monta per esempio il phbg o il 12 10 del ciao ok però a differenza di di quelli appunto di questi ultimi carburatori che sono a testa bassa seppur sempre 5 millimetri di filetto questi sono a testa alta serve la testa alta perché permette di pescare meglio la miscela soprattutto in situazioni gravose tipo impennate curve pieghe o forti accelerazioni forze accelerazioni così via in momenti insomma in cui la vaschetta non è perfetta non ha un livello perfettamente orizzontale e non è perfettamente piena quindi se non si monta un getto testa alta si rischia che il pescaggio non sia corretto e chiaramente nelle peggiori delle delle casistiche si potrebbe anche grippare ok lo starter è chiaramente sempre 60 questo non andiamo a toccarlo ok anche se a volte anche se a volte ho trovato il 70 se ho trovato il 70 lasciatelo non c'è nessun problema va bene quello che trovate del carburatore ok detto questo considerate che il getto del minimo in questo caso anche un emulsionatore del minimo qua sotto ok vediamo se adesso riesco a svitare si era già svitato il minimo c'è un 70 ok il minimo va da un 65 68 se avete il cilindro di scatola a ad un 70 nel mio caso ok dipende anche dalla valvola del gas adesso poi ne parleremo qua dentro qua dentro c'è l'emulsionatore del minimo ok che deve essere indicativamente maggiore o uguale rispetto al getto del minimo che andate a mettere quindi il top sarebbe mettere minimo minimo a testa alta 70 emulsionatore b 70 ok se avete un 65 mettiamo un b 65 e così via altra cosa il polverizzatore deve essere un bn 266 l'rs 125 depotenziate montano un bn 264 mentre quando veniva ripotenziata la moto che arrivava poi a 30 cavalli necessitava di un bn quindi bari napoli 266 detto questo passiamo allo spillo ah giusto il galleggiante di serie anche quello non va toccato vediamo se riesco a leggere da quant'è con la luce vediamo un pochino mi pareva forse sugli 8 grammi sì circa 8 grammi di solito ok non è andato a toccare neanche lo spillino della benzina che entra dal rubinetto in questo caso c'è un 250 ok questo è un 250 e passiamo adesso alla ghigliottina e allo spillo lo spillo è un x25 che è sempre quello che viene montato sull'r6 125 anche qui ne ho provati diversi ma quello con cui mi sono trovato meglio è stato proprio quello ok chiaramente lo lasciamo sempre alla prima tacca dall'alto ma se riesco a mettervelo a fuoco meglio eh non ce la faccio non è facilissimo non vuole metterlo a fuoco ok x25 prima o seconda tacca dall'alto di solito in estate prima tacca in inverno seconda tacca io l'ho utilizzato diversi anni e linea di massima ovviamente dipende dove abitate come sempre perché può esserci più o meno umidità più o meno freddo però indicativamente lui nella pianura padana si comportava così in inverno seconda tacca ad estate prima tacca chiaramente dall'alto la ghigliottina adesso montata qui c'è una 50 perché l'ho dato a farotube sempre per fare degli esperimenti e mi ha scombinato tutto qua dentro poi ho altre valvole anzi una se l'ha infascata lui me la deve ridare tra l'altro un altro dislike per lui che mi ruba le valvole del gas comunque avevo in base all'elaborazione la 50 o la 60 dipende tutto da sempre dalla composizione dell'aria diciamo che con la 60 poi si va ad utilizzare un minimo più alto perché chiaramente a parità di apertura del gas e anche al minimo stesso chiaramente la valvole da 60 aspira più aria quindi smagrisce di più quindi serve più benzina nel circuito del minimo basta tutto questo è quello che vi serve ovviamente ovviamente di serie l'RS 125 di apotenziata aveva una 45 che di solito dava il problema classico dei blocconi ovvero quello che si andava a imbrattare sempre fino a circa un quarto barra un terzo di gas quindi il mio consiglio è quello di andare subito su una valvola da 50 o da 60 e poi di andare a registrare il resto della carburazione spero di aver detto tutto se ho dimenticato qualcosa scrivetelo qua sotto e vi risponderò chiaramente nei commenti per adesso è tutto da me dal 25 non ci sono altri aggiornamenti un saluto alla prossima